La nostra regione è interessata ad una debole circolazione depressionaria che determina passaggi nuvolosi associati a deboli precipitazioni distribuite in maniera irregolare. Nei prossimi giorni è prevista una nuova espansione dell'alta pressione la quale garantirà per l'intero fine settimana condizioni di bel tempo con temperature molto miti. Per venerdì 27 settembre cielo poco nuvoloso ovunque con possibili densamenti lungo la dorsale appenninica ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie venti deboli di direzione variabile con una maggiore componente settentrionale mari poco mossi mentre per sabato 28 cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata a parte la formazione di dense foschie nelle aree vallate interne durante la notte al primo mattino. Temperature in leva aumento specie nei valori massimi venti deboli settentrionali mare quasi calmo. Infine per domenica 29 cielo sereno ovunque per l'intera giornata tuttavia durante la notte e al primo mattino dense foschie e banchi di nebb interesseranno alle vallate e pianure interne. Temperature in ulteriore levamento nei valori massimi. In diminuzione le minime della notte nelle aree vallive venti deboli direzione variabile mare calmo. Bel tempo anche nei primi giorni della prossima settimana anche se nella giornata di martedì le temperature potrebbe iniziare a diminuire per l'avvicinarsi di un fronte freddo proveniente dalla nord Europa. Perturbazione che nei giorni successivi potrebbe determinare un brusco cambiamento del tempo ma al momento è prematuro parlarne. Per ulteriori dettagli consultare i prossimi